Buonasera, ben ritrovati e benvenuto a Walter Corti del Consorzio Terre Alte di Leco. Lo spunto per invitarla questa sera ci è venuto da questa notizia che guardiamo insieme e poi commentiamo. Il 95% delle aziende agricole lombarde che partecipano ai farmer's market o alla fornitura di prodotti nelle botteghe della filiera agricola italiana dichiara un fatturato in crescita o stabile nonostante la crisi. In tempi di crisi non ci sembrava vero, c'è finalmente un settore che sembra non sentirla. Le risulta che sia così? Sì, sicuramente è vero. È un momento in cui da parte delle aziende agricole ci sono degli ottimi risultati nella vendita diretta. Sicuramente le motivazioni possono essere le più varie, ma di fatto la realtà è che siamo in crescita di fatturato come aziende agricole nella vendita diretta. Non così per la verità nella vendita all'ingrosso, ma nella vendita diretta sicuramente. E in effetti dare alle produzioni locali degli sbocchi di mercato nuove fa felici un po' tutti, sia i produttori che i consumatori. E noi siamo andati ad Osnago, a uno dei vostri mercati, ne avete poi un altro a Val Madrera, a sentire un po' i vari commenti. Vediamo. La sua azienda che cosa produce? Produce ortaggi di stagione e frutta, anche quella di stagione. Lavoriamo per maggiori mucca, capro e anche salumi. Da quanto tempo è qui al mercato? Dall'inizio di questo mercato qua saranno 4-5 anni, presumo. E come è cambiato il fatturato della sua azienda? In positivo o in negativo? No, in positivo. Noi non facciamo solo questo mercato, ne facciamo anche altri, però è un buon mercato. Dal punto di vista delle entrate, del fatturato, è cambiato in positivo, nel senso che per noi questo mercato è stata una buona opportunità. Sicuramente le vendite sono incrementate perché c'è stata una possibilità in più di commerciare i nostri prodotti. Se dovesse tracciarmi l'identikit del vostro cliente tipo, di chi viene a questi mercati? Cambiano sempre i clienti, però ci sono quelli proprio storici, li chiamiamoli. Da quando hanno aperto sono sempre qua e quindi si trova bene. Sì, mi trovo molto bene perché è la roba molto fresca e i prezzi sono corretti. Ma il cliente tipo, sicuramente, vengono soprattutto signore, credo sia casalinghe ma anche lavoratrici, visto che comunque noi facciamo il mercato il mercoledì pomeriggio ma anche al sabato. Li definirebbe compratori consapevoli? Sì, sicuramente sì, perché comunque vedo che c'è attenzione al prezzo, alla qualità, alla stagionalità, alla zona di produzione, quindi sicuramente sì. Ormai nei centri grandi tanta scelta ma gusto pochissimo. Qui ritroviamo un po' i vecchi sapori. E per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo come lo giudica? Abbastanza buono, abbastanza buono. Per la verdura anche meno, per certi banchetti questi no, questi sono già un po' più costosi, però insomma vale la pena. Insomma, tanti spunti da questo giro al mercato. Ci siamo ritrovati con questa, anche gli operatori del mercato di Osnago parlano di un incremento delle vendite. Quindi ci ritroviamo su questo. E ricordiamo che questi sono vostri associati, perché lei è il vicepresidente di un consorzio che si chiama Terre Alte. Esatto, consorzio che è nato una decina di anni fa su iniziativa dell'amministrazione provinciale di Lecco e che in un primo tempo riuniva unicamente gli agriturismo del territorio e poi in una naturale espansione si è allargato alle aziende agricole anche senza agriturismo proprio in quanto produttori di qualsiasi prodotto agricolo che potesse essere venduto direttamente per cui si è dato inizio ad un'attività di vendita diretta aprendo, sempre grazie all'amministrazione provinciale di Lecco allora, il mercato di Osnago e in seguito poi, grazie all'intervento della comunità montana, quello di Valmadrera. Quindi adesso contate molte aziende associate? Sì, allora siamo attorno alla cinquantina di cui circa una ventina di produttori che potrebbero vendere prodotti e gli altri esclusivamente agriturismo però tutti operatori che possono dare un segno concreto dell'attività che si svolge nel Lecchese il consorzio ha come vincolo che tutte le aziende debbano essere del territorio della provincia di Lecco per cui tutti dalla zona pedemontana o dalla fascia più bassa collinare della provincia di Lecco Sì, dall'Avriso Brianza, Lecchese e poi fin su in Valsassina Fin su in Valsassina Sì, allora sicuramente nessuno si aspetta dal territorio della provincia di Lecco una produzione di questo tipo agricola. E in effetti non è una produzione quantitativamente abbondante, però lo è sicuramente qualitativamente. Come si può vedere al mercato si produce di tutto, da certi tipi di frutta ad altri di verdura, a prodotti lattiero caseari di trasformazione, prodotti di trasformazione della carne sia bovina che suina, l'allevamento caprino, l'allevamento delle api per fare miele, c'è di tutto nel mercato di specie. Il pesce dei nostri laghi. Esatto, che noi abbiamo accolto volentieri all'interno delle attività del consorzio, pur non essendo un'attività prettamente agricola, però molto legata all'attività agricola in quanto produttori a diretto contatto con la natura, tanto quanto le nostre aziende agricole. Quali sono le garanzie che chiedete? Lei ha già parlato di un vincolo che è quello del territorio. Però per noi consumatori è anche importante sapere che tipo di garanzie offrono queste aziende che si associano con voi e commercializzano con il vostro marchio. Con il nostro marchio, certo. Certamente quello che si chiede alle aziende agricole è che mettano in vendita prevalentemente prodotti propri o trasformati in proprio. Questo prevalentemente significa che nel momento in cui il produttore di verdura mette in vendita in certi periodi dell'anno dei prodotti che non sono di sua produzione, lo evidenzi, per cui il cliente sa che se vuole un certo tipo di insalata in un certo particolare segmento dell'anno, la può acquistare, sapendo che non è prodotto da quell'azienda agricola, ma comunque prodotto da altre aziende agricole che sono in contatto con quell'azienda. Questo è, secondo me, uno dei nostri grossi fiori all'occhiello, cioè il sapere che tutte le produzioni che vengono messe in vendita sono da azienda agricola direttamente, senza avere altri passaggi. Altri intermediari, altri passaggi. Questa è stata una scelta che abbiamo dovuto adottare perché parecchi consumatori, clienti venivano e dicevano, ma noi dobbiamo venire a fare la spesa qui, puoi ripassare dal supermercato perché certi prodotti qui non li troviamo. Nelle banane in provincia di Lecco. Perfetto, esatto, allora abbiamo, se vogliamo, ci siamo adattati a queste esigenze con l'imposizione ai venditori, ai nostri colleghi, che venga segnalato quando il prodotto non è di propria produzione. Però noi abbiamo visto anche attraverso tanti cartelli che si vedevano appunto nelle immagini che la gran parte della produzione, soprattutto appunto anche quella agricola, lei faceva riferimento in questo momento, è produzione propria. Chiaro che appunto le arance no, i limoni no. Tranquillamente il 90%. Ma il 90%. E questo è proprio importante perché il cibo che viaggia poco ha molte virtù. E questo ce lo ricorda un po' un guru di questa filosofia che è Carlo Petrini, Presidente Onorario di Slow Food. I consumatori cercheranno il cibo locale, il cibo sano, il cibo fresco, il cibo stagionale. Sarà un imponente processo virtuoso. Pensate a cosa si risparmia dal punto di vista ecologico senza trasporti lunghi, senza la refrigerazione, l'imballaggio che poi finisce tutto in spazzatura, l'immagazzinamento che toglie tempo, spazio, porzioni di natura, bellezza. E si accennava proprio a questo sistema virtuoso che si innesca perché sembra un gesto piccolo, quello di fare la spesa da un produttore, ma però poi si innesca davvero un circolo virtuoso. Sì, sicuramente è un grosso vantaggio il poter portare direttamente dal produttore, quali siamo noi, al consumatore, le nostre produzioni, senza voler per carità giudicare il lavoro di altri che normalmente si inseriscono come intermediari di commercio piuttosto che grossisti. Però sicuramente evitare dei passaggi, al di là del risparmio economico, che non fa mai male, ma dà un grosso margine di vantaggio, sia dal punto di vista del prodotto fresco, parola importantissima sottolineata un attimo fa, ma oltre che il prodotto fresco anche che non ha necessità di trasporti, di lunghi trasporti e quindi di risparmio dal punto di vista della salute e della difesa dell'ambiente. Sì, anche dell'impatto sull'ambiente che sicuramente è differente in questo modo. E quindi lei si ritrova perfettamente in quanto è stato detto, è un po' anche la vostra filosofia, la filosofia. E appunto è stata questa una delle motivazioni che vi ha spinto anche a consorziarvi probabilmente anni fa? Certamente, proprio. Qualcuno di noi, per esempio la cooperativa che rappresento, la cooperativa Lecco Latte, aveva già iniziato in prima persona, essendo una cooperativa di produttori agricoli, raccogliere il latte dei soci, trasformarlo in formaggi, yogurt e latte alimentare e aprire un proprio spaccio in Lecco. Ci siamo però accorti che veniva visto dalla gente come un negozio qualsiasi, non c'era questa distinzione. E allora, volentieri, quando è nata questa idea del consorziarsi per fare un mercato dei produttori agricoli, abbiamo aderito immediatamente, proprio perché è diverso il singolo spaccio aziendale dallo spaccio congiunto di più produttori che credono in questa vendita diretta e che si organizzano in proprio per arrivare al consumatore direttamente. Sì, tra l'altro noi siamo stati a Osnago e abbiamo trovato anche una bella atmosfera, anche tra i diversi soci di collaborazione e questo appunto è molto importante. Io chiuderei con una domanda che, visto che siamo in tempo di elezioni, avremo senz'altro un nuovo assessore all'agricoltura in Lombardia. Lei che cosa chiederebbe? Non è facile dare un consiglio o fare una richiesta precisa ad un assessore regionale, anche perché le competenze regionali stanno cambiando nel tempo. Sicuramente una delle cose che mi piacerebbe chiedere all'assessore è il capire la differenza del produrre in proprio e vendere dei prodotti che attualmente non hanno un prezzo di vendita legato ai fattori di produzione per cui uno ha una garanzia di guadagno quando mette in vendita il proprio prodotto, ma parlo del latte per esempio, il prezzo è praticamente imposto a livello più alto di quello che può essere quello del produttore per cui ci si trova nelle condizioni di dover vendere il prodotto ad un prezzo non remunerativo. Quindi sicuramente che l'assessore intervenga a difesa dei prezzi di produzione, non tanto nella vendita diretta, non è questo il caso, ma nella vendita dei grossi quantitativi. Nell'ambito invece più locale, più ristretto nostro, il favorire questi mercati con una normativa urbanistica che non esiste, per cui per esempio noi siamo fra virgolette degli abusivi in una zona che non è agricola ad esercitare un'attività agricola. Il mercato di Osnago è in stand della fiera che non sono sicuramente luoghi agricoli. Una normativa più precisa che consenta di esercitare questi mercati in zone adatte, magari con esenzioni da determinate imposte che gravano sul produttore, potrebbe essere un gradito intervento da parte dell'assessorato regionale. Benissimo, allora noi la salutiamo, la ringraziamo per essere stato con noi e l'invito a tutti a rifrequentare questi Farmer's Market, o comunque mercati di prossimità, per tutte le ragioni che il signor Walter Corti ci ha illustrato questa sera. Grazie, arrivederci.